Alla fine le voci di corridoio che si rincorrevano da mesi si sono tramutate in realtà. La Tales Italia lascia il sito di Chieti Scalo. L'annuncio nel corso dell'ultimo tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, grande la delusione dei lavoratori che hanno annunciato presidio e sciopero oltranza. I venti dipendenti del reparto Star 1000 saranno probabilmente ceduti a una società malese, una NUCO nata il 20 dicembre scorso e operativa dal prossimo primo aprile, oggi posseduta solo da Tales Italia. L'operatività della NUCO sarebbe garantita per tre anni, anche se i sospetti dei lavoratori sono che i malesi non resteranno in Italia per più di due anni. Altre 70 persone, quelle del reparto RCP, saranno messe in mobilità, con modalità e tempi ancora da chiarire. Resta incerto il futuro del reparto NIS, otto persone che si occupano di manutenzione delle reti del Ministero della Difesa e che dipendono direttamente dalla sede centrale di Firenze. La comunicazione della società ha però sorpreso i sindacati che avevano con l'azienda una trattativa ancora aperta con tre incontri già fissati prima della fine di febbraio. Inoltre la multinazionale aveva chiaramente detto che se ci fossero state commesse non avrebbe lasciato l'Italia. Sentiamo Fabrizio Potetti, coordinatore nazionale Tales Italia. La multinazionale è venuta dichiarando che se si fosse avuto qualche spazio nell'ambito della difesa italiana, questa è una multinazionale che lavora nell'ambito della difesa, avrebbe potuto ripensare alla chiusura, diciamo al disinvestimento sul sito e avrebbe addirittura aggiunto un investimento pari a quello che si sarebbe trovato. Bene, grazie alla collaborazione avuta con la Regione e con il Ministero, nella legge di stabilità sono usciti i finanziamenti, ovviamente si tratta di partecipare ai bandi perché siamo in ambito di attribuzione di risorse pubbliche, è giusto quindi che si facciano dei bandi, ma con delle specificità oggettive che riguardano questo sito. Bene, di fronte anche a uno sforzo di questo tipo, in una crisi generale che attraversa il Paese, si trovano risorse per poter mandare avanti un sito, la multinazionale decide comunque di chiudere il sito, addirittura pure, diciamo, come possiamo dire, gettando alle ortiche tutto il lavoro fatto nell'ambito dei mesi precedenti dal tavolo e questo per noi è inaccettabile. Quindi noi stiamo chiedendo alle Tales di ripensare questa decisione, anche perché questa decisione mette in difficoltà tutto il gruppo, non è più ormai un problema soltanto del sito di Chiedi, ma una multinazionale che getta alle ortiche un finanziamento che aveva richiesto, nel rapporto col governo noi pensiamo che crea problemi anche agli altri lavoratori della Tales Italia.